Associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione, ricettazione e detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Accuse rivolte a una banda la cui attività è stata stroncata da un'indagine avviata nel marzo 2016 dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Milazzo. In carcere sono finiti Giuseppe Murabito, 32 anni, e Paolo Francesco Musolino, 30 anni, ritenuti il primo promotore del sodalizio e il secondo ricettatore. Agli arresti domiciliari è stato sottoposto invece Francesco Perroni, 25 anni, ritenuto dagli investigatori il braccio destro di Murabito. Soltanto obbligo di dimora nel comune di Milazzo per una 34enne che secondo le indagini avrebbe partecipato a un solo furto. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso i locali della Procura della Repubblica. Furti sarebbero stati commessi dal gruppo a San Filippo del Mela, furnari ai danni di un magazzino di Barcellona Pozzo di Gotto. L'attività investigativa avrebbe fatto emergere anche la spregiudicatezza con la quale operavano gli indagati. In un caso in particolare uno degli indagati, approfittando di una festa della propria cugina presso un locale del comprensorio, avvisava il resto della banda, introducendosi all'interno dell'abitazione dei parenti per mettere a segno il furto. L'attività predatoria era strettamente collegata a quelle in materia di stupefacenti. Il gruppo, dopo aver raccolto gli ordinativi tra gli abituali consumatori, si recava a Messina per rifornirsi e soddisfare le richieste di mercato. L'attività investigativa avrebbe consentito anche di accertare lo scambio di merce rubata con droga. Dalle indagini è emerso che i viaggi verso il capoluogo avvenivano in concomitanza con gli ordinativi richiesti, ma anche e soprattutto prima e dopo i furti messi a segno. Ciò farebbe propendere gli inquirenti a ritenere che la refurtiva servisse per pagare il fornitore di stupefacente.